Buongiorno a tutti, sono Alberto Mattia, BCI Italy Forum Board Member e CEO di Pantarelli. Il 28 novembre presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano si terrà la BCI Italy Conference che dal 2014 è il principale evento a livello nazionale sui temi di continuità e resilienza. Anche quest'anno è prevista la partecipazione di relatori di primaria importanza con interventi che si preannunciano essere molto interessanti. Io stesso terrò una sessione della durata di circa un'ora nella quale farò un breve intervento sull'importanza della resilienza e su come ottenere l'impegno da parte di tutta l'organizzazione, in particolare del top management verso il sistema di gestione della continuità operativa. A seguire modererò una tavola rotonda alla quale parteciperanno la professoressa Cervigno consigliere di amministrazione del gruppo Enel, il generale Carlo Gualdi consigliere di amministrazione di S. Lunga e Gianluca Poluzzi nel duplice ruolo di business continuity manager del gruppo Biper e di consigliere di amministrazione della cassa di risparmio di Saluzzo. Ne approfitto per ringraziarvi fin d'ora della loro disponibilità. I concetti chiave che vorrei uscissero e che fossero trasmessi dal mio intervento sono in primo luogo smettiamo di lamentarci passivamente se il top management non è sensibile all'importanza delle tematiche di continuità e resilienza perché è il nostro compito spiegare l'importanza di queste materie. Per fare ciò è fondamentale il metodo di comunicazione che utilizziamo perché i top manager al giorno d'oggi sono impegnati con diverse questioni piuttosto complesse e quindi non possiamo limitarci a spiegare che cosa facciamo. Per trasmettere l'importanza di continuità e resilienza propongo di partire dal perché. Perché la resilienza è importante, perché la continuità operativa è un valore e un vantaggio competitivo. Vi aspetto quindi il 28 di novembre all'Hotel Principe di Savoia e spero veniate numerosi. Grazie.